Video in 4K da Times Square da Samsung Galaxy A9 2018, fotocamera principale, fotocamera zoom 2x non posso però passare almeno a questa risoluzione, immagino sia un problema di risoluzione alla grande angolare dal 4K della fotocamera principale anche in Full HD però in realtà la mia teoria si è dimostrata sbagliata visto che anche in Full HD non posso passare fra la fotocamera principale e quella grande angolare solo fra la principale e la zoom cammino, due passi, così testiamo anche la stabilizzazione devo dire che quella elettronica non sembra affatto male poi sarà tutta ovviamente da rivedere al computer milioni di persone che si fanno foto ogni secondo qui in Times Square sempre così sempre molto bello finalmente una giornata di sole a New York così proviamo anche un po' la qualità di registrazione video anche con un po' di luce anzi con molta luce con un pieno controsole come questo così lo sto reggendo con una mano così lo sto reggendo con due provo anche dalla videocamera frontale fa un gran freddo se mi vedete così è perché fa veramente freddissimo abbiate la vita di me non sembra malissimo la registrazione video sto ovviamente camminando posso anche rallentare un attimo sempre New York ovviamente siamo ancora a New York al World Trade Center bellissime le proiezioni sul grattacielo davanti sul One World Trade Center qua sotto appiamo le vasche le piscine in memoriale dell'11 settembre faccio un tap perché non stava mettendo a fuoco non stava mettendo a fuoco dicono non stava mettendo a fuoco sei contenta che sono tornato beh dai sembri un gatto contento comunque no un gatto contento in 4k